Premio Migliore Espositore 2016 Da dove nasce l'approccio decontestualizzato all'allestimento del vostro stand? Se le fiere in qualche modo non hanno più il ruolo che avevano un tempo, c'è bisogno di creare delle nuove forme e noi abbiamo pensato di lasciare alle persone che vengono a trovarci un sorriso cioè non presentare banalmente il nostro prodotto, il nostro servizio come fanno magari tutti quanti ma cercare di fargli provare delle emozioni che si portassero a casa un ricordo piacevole dell'incontro con noi Qual è la strategia di marketing adottata durante tutto il percorso di SMAU? Il format è molto semplice, sono delle regole da rispettare il primo è essere attivi e non passivi, non aspettare che sia il cliente a venire da voi bisogna andare noi incontro al cliente l'altro è che la fiera non è soltanto quel momento lì la fiera inizia prima, durante e dopo questo grazie Social Network inoltre, e ultimo, è pensare fuori dagli schemi utilizzare il gadget come un'attrazione e non come un regalo